spaschi cioè volevo dire buongiorno oggi torna un'opinione del maestro e volevo parlare di qualcosa che mi chiedete incessantemente soprattutto nell'ultimo periodo ovvero come prepararsi a un imminente torneo di scacchi come sempre la risposta non può essere semplice e allora partiamo presupposto preparazione per un torneo rapid e o blitz la trattiamo subito preparazione per un torneo serio e per serio intendo con variazioni elo partite classiche due ore per 40 mosse eccetera eccetera partiamo da un presupposto si suppone che voi tutti che mi state ascoltando e che siete interessati a questo video a proposito iscrivetevi al canale fatto fatelo fare anche gli altri dicevo tutti voi che siete agonisti e siete interessati a questo video penso che siete appunto agonisti quindi avete intenzione a fare tornei regolari e a migliorare se fate tornei tanto per la preparazione non è che vi serva più di tanto comunque se io so che fra un mese un mese ho da fare un torneo semilampo e non gioco da tanto come può capitare a molti in questo anno pandemico è inutile che mi metta a studiare aperture difese perché in un torneo seminampo o blitz basta che non metti qualche pezzo in presa anche perdi un pedone in apertura non cambia più di tanto è importante che sia tatticamente in forma quindi un mesetto prima comincio a rinfrescarmi a fare qualche partita blitz o preferibilmente del formato del torneo se il torneo sono partito a 30 minuti comincio a fare partite a 30 minuti ma molto rilassato molto rilassato un mese prima e quando intendo comincio a fare intendo ogni giorno sette giorni su sette almeno ci dedico un'ora al giorno un mese prima tre settimane prima oltre a fare queste partite comincio ad aggiungere anche un po di tattica esercizi di tattica quindi facciamo un'ora più un 20 minuti di tattica al giorno due settimane prima del torneo oltre alle partite rapid comincio a fare anche qualche partita un po più veloce per abituarmi agli ultimi minuti che potrebbero essere intensi non è detto che ci sia un incremento aumento ancora di più la tattica e forse diminuisco un po il tempo per le partite rapid quindi da un'ora e mezza che eravamo arrivati facciamo 40 minuti di partite e 50 di tattica una settimana prima del torneo non gioco più non mi alleno più ogni giorno per evitare di arrivare troppo stanco al torneo ma per un tre giorni fino a tre giorni prima dell'inizio del torneo faccio esclusivamente tattica i tre giorni prima del torneo rapido o veloce che sia non gioco non mi alleno mi rilasso l'importante è che non abbia attività stressanti nella mente quindi che non abbia pensieri importanti se vi state per sposare non andate a giocare tornei se vi state per divorziare o avete avuto lutti in famiglia avete problemi seri lavorativi sentimentali o altro non fate tornei il torneo non sarà un qualcosa che vi rilasserà o che vi farà staccare dalla routine carica di problemi ma tali problemi si ripercuoteranno sul torneo e avrete un risultato scadente che vi farà stare male si suppone perché il giocatore agonisti non piace perdere quindi non voglio neanche considerare che andate là solo per vedere un pugno di amici ciao 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 no si partecipa per cercare di vincere in qualunque condizione il giorno la sera prima del torneo ecco la sera mettiamo nel torneo inizia la mattina presto la sera prima del torneo si vedono cose rilassanti divertenti non drammatiche in televisione non si va a fare cena fuori per non essere troppo appanzati perché non succeda qualcosa regime alla botlinic regolare si va a letto presto la mattina possibilmente si va al torneo in macchina con qualcun altro cosicché voi non dobbiate guidare e non stressarvi si va in macchina con qualcuno che non vi faccia stressare con la sua guida si arriva debitamente in tempo in anticipo affinché non dobbiate stressarvi per arrivare in ritardo o sperare che come si fa in sicilia i tornei ritardino per aspettare voi e poi si comincia a giocare ma vuol dire che ti arrivi ti iscrivi ti siete la scacchiera e comincia a trovare il tuo mindset mentale senza babbiare senza fare discussioni senza fare fesserie sei la per giocare tesi la scacchiera aspetti il tuo turno e ti concentri ti rilassi c'è chi trovare il tuo vuoto mentale solo tu la scacchiera e forse le mosse che fa il tuo avversario basta se c'è una pausa pranzo nel torneo rapide le dure di solito un giorno mangiate qualcosa di leggero possibilmente carboidrati che sono zuccheri a lento rilascio evitate dolci evitate se possibile caffè e zuccheri perché vi danno una botta ma poi quando calano andate in crollo evitate proteine a manco a dirlo vietatissimo mangiare e o bere durante il torneo ma questo non dovrei neanche dirvelo e se è possibile non abbiate problemi con la ragazza moglie eccetera eccetera un messaggino sono arrivato in serie torneo quando siete arrivati e quando finisce il torneo un messaggino abbiamo finito stiamo ripartendo punto andiamo a pensare adesso ai tornei di partite serie e passiamo partiamo dal presupposto che voi non abbiate bisogno di modificare il vostro sistema di apertura ma che ce l'abbiate già consolidato quindi mi rivolgo almeno a candidati se siete inferiori a candidati non perdete tempo con le aperture dovreste semplicemente avere le vostre partite vi siete fatti il vostro sistema di apertura con le vostre partite gli date un'occhiata veloce e basta quindi partite di torneo serio due mesi prima del torneo due mesi prima per riprendervi perché da molto che non giocate cominciate a fare ogni giorno una mezz'oretta dedicata a partite o meglio analisi di posizioni analisi mentali mentali 4 5 6 varianti poi le scrivete senza muovere i pezzi sulla scacchiera e analizzate e il restante tempo un'altra mezz'ora tattica questo lo potete fare per un due tre settimane ogni giorno un'ora al giorno altre due tre settimane aggiungete anche un po di studio dei finali che male non fa mai continuate ad analizzare posizioni anche di partite vostre passate che già sapete come sono andate a finire magari rivedendole trovate delle altre continuazioni e vedete anche voi stessi come siete migliorati vedete anche quali porcherie immonde e schifose avete fatto in passato sempre tattica che sarà una base continuativa delle vostre partite suonate sempre un po di finali e se volete date un'occhiata alle vostre aperture senza libri e ovviamente manca a dirvelo il computer non deve neanche esistere in queste fasi anzi non esiste proprio passeranno i tempi circa arrivate a due tre settimane prima dall'inizio del torneo quindi si suppone che sia o un torneo weekend o un festival meglio un festival perché dormite in loco vi staccate completamente dal quello che è avanti e indietro in auto o in qualcosa che vi può stressare e continuate a vedere un po di aperture un po poco di finali molta tattica e studio di molte posizioni la settimana precedente al torneo non fate niente staccate completamente arrivate in torneo che suppongo essere un festival dormirete là quindi il mio consiglio è la mattina del torneo quando non giocate fate attività rilassanti che può essere un bagno prendere un po di sole se è estate una passeggiata rinfrancante niente altri tornei tipo 3-7 briscola, spin pong, nuoto niente vi rilassate al massimo se conoscete il vostro avversario vi studiate un pochettino di apertura sempre dai vostri libri cioè quelli fatti da voi sulle vostre partite per quanto riguarda un po di preparazione contro il vostro avversario o se siete da candidati maestri in su vi studiate sui libri sulla vostra preparazione un po di apertura del vostro avversario e poi andate a giocare dopo la partita comunque sia staccate, vi rilassate, andate a cena e la sera anche se morirete dalla voglia di andarvi a vedere la partita con qualche motore informatico per vedere dove avete sbagliato chi si porta il portatile e qua di là io ve lo sconsiglio so che lo farete lo stesso ma tanto ve lo sconsiglio perché il computer vi troverà sicuramente una linea che era meglio di quella che avete pensato voi ma che voi non avreste giocato ora una cosa è andare a vedere il tatticismo pazzesco per vedere il mio sacrificio era giusto e io non ho trovato la variante corretta ok però ripeto voi avete la capacità analitica di un computer? no quindi se non siete stati capaci in grado di trovarla il concetto non è che diventate come un computer il concetto è forse quel sacrificio non dovevate giocarlo l'avete giocato intuito? andate avanti e intuito semplice il computer non giocherà mai al posto vostro e le mostre che vi dirà anche se per voi possono rappresentare la verità sulla scacchiere in realtà non è così voi non siete quel pc e non sapete mai giocare come quel pc potreste dire ho dimenticato la mia stessa variante d'apertura ok ve la andate a rivedere fate tesoro per il futuro sicuramente l'avversario vi uscirà dalla vostra linea e voi dovete sapere ma si giocava giusto questa? ho imbroccato? studiatevi la partita ve la mettete sulla scacchiera in 3d rivedete la variante vi fate qualche piccolo commento light alle varianti dell'apertura e poi basta andate a letto presto in domani si gioca di nuovo e non ci pensate finito il torneo staccate per una settimana vi rilassate non ci pensate e poi la settimana dopo la fine del torneo a mente serena vi rivedete tutte le partite vi annotate un po' di varianti di studi di qualcosa che dovete fare e vedrete che troverete un sacco di cose interessanti io sconsiglio fortemente quello che fanno in molti cioè di passare da un torneo all'altro istantaneamente prima o poi il vostro fisico vi presenterà il conto e ovviamente manco a dirlo quando siete in un torneo la sera discoteche notti brave no 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 se andate là per cercare ragazze ragazzi quello che è andate là per cercare ragazzi ragazzi quello che è non fate il torneo se siete là per fare un torneo se poi dovete vincere allora come diceva Botvinnik un fisico sereno e riposato vale più di 10 varianti questi sono i miei consigli per voi li seguirete? non credo non credo che studierete un'ora al giorno per tutti quei giorni prima del torneo non credo che studierete sulla scacchiera come vi ho detto o mettendo le partite con i pezzi in 3D e non credo che non farete uso di pc in conclusione ve ne stracafotterete di tutto quello che vi ho detto si vedrete questo video ok quel robicoglione ha detto questo continuerete a non fare quello che vi ho detto continuerete a fare gli errori parete il vostro solito schifio ai tornei e poi qualcuno di voi mi dirà maestro che dovevo fare cosa non ho fatto che mi consigliava e io invece di mandarvi come meritate a fare un dogulo perché questo vi meritate vi risponderò gentilmente vatti a rivedere il video che ho fatto su come ci si prepara per i tornei perché qua da me troverete sempre solo la verità ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.